Ah belli, oggi se sparamo due versi di Cesare Pascarella, o questo è un cavolavoro, si chiama Scoperto dell'America, però siccome non è che posso andare troppo lunga, se sparamo solo alcuni sonetti, 3-4, allora dove stanno? Stanno già saliti sui barchetti, sapete dovranno andare a scoprire l'America e quindi non partimo da lì. Passa un giorno, due, tre, una settimana, passa un mese che già stavano a mollo, guarda, riguarda, hai voglia a slungar collo, l'America era sempre più lontana e ogni tanto veniva una buriana, lampi, furmini, giù, arrotta di collo, da sì, qui se va tutti a scapicollo e dopo, dopo una giornata sana di tempesta schiariva poco a poco, l'aria scottava che pareva in forno o a respirarsi, respirava poco. E come che rialzavano la testa, quelli avanti, passavano altro giorno, patapunfete, giù una antra tempesta. Eppure il mare, il mare quando è bello, che vedi quel azzurro del turchino, che te c'è sdrai l'ongolo lì vicino, te sapere il core un cono sportello. Che dirizia, senti quel ventarello salato, quel freschetto, fino, fino dell'onne, che le muove il ponentino, ma che pare stiano a fanni sconnarello. Eppure, sotto tutto quel celeste, ma dico, ma dimmi un po', chi lo direbbe che cecoveno sotto le tempeste? Così uno, finché non ci si avvezza, che te credi che lui ci penserebbe sì fino a dove arriva la grannezza. Che lì mica te giova, esse sapiente, non giova vecce testa o ritintiva, col mare si non c'ha immaginativa, te l'immagini sempre differente. Che lì tu hai da riflettere con la mente, che quello che tu vedi dalla riva, lontano, insinché l'occhio dice riva, pare chissà che cosa, invece niente. Che lì puoi camminare quanto te pare, più cammini e più trovi l'infinito, più giri e più ricaschi in alto mare. Seguiti a camminare migliare ad ora, dove c'è il cielo, dove pare finito, invece arrivi lì, comincia l'ora. E figurate quelli che c'è stavano, figurate che strascio d'allegria, avanti, sempre avanti, tribolavano, e l'America? Sì, vattene via. Oh, raga, ma mi stavo a chiedere, ma poi dove sta sta America? No, perché a me a volte mi sembra di vederla lì all'orizzonte, poi allora mi avvicino, ci provo, faccio un po' dei giretti, e poi quando sto là, questa mi sa lontana, pure a me, non acchiappo. Oppure ci sono quelle volte che così allungo la mano, ha preso, ha acchiappato, arrivo, è in Giappone. Che delusione. Ma forse, non lo so, non lo sto cominciando a pensare, è meglio non arrivarci mai in St'America, no? Che dite? Bella, raga. Noi ci vediamo presto. Cama Italia. Ciao.